Che cos'è che discutiamo oggi? Perché è una lezione molto importante e mette in discussione anche l'ambito domestico, dove normalmente i rapporti tra uomo e donna non sono così chiari ed espliciti all'esterno e in pubblico. E proprio questo punto è stato affrontato da subito, negli anni 70, dalle femministe. Carol Patelman, 40 anni fa addirittura, ha cominciato a parlarne. E poi negli anni 70 Maria Rosa Dallacosta, Selma James e Silvia Federici hanno approfondito questa dicotomia tra privato e pubblico e hanno introdotto le nozioni di lavoro domestico e riproduzione sociale insieme a tutte le contraddizioni che nel pubblico tra uomo e donna esplodevano. E anche nel rapporto privato però sulla sessualità. Invece qua il discorso è proprio quello della distribuzione del lavoro di cura, che per le donne è sostanzialmente sempre stata ed è ancora in tutto il mondo un lavoro totalmente gratuito, che Antonella Picchio, una mia carissima amica che ogni tanto sento ancora, quando c'è stata la conferenza ONU a Pechino nel 95, aveva chiesto che i governi mettessero, conteggiassero nel PIL, perché era il modo importante per dare valore a questo lavoro. Io ricordo per esempio che non ero d'accordo negli anni 70 con Maria Rosa Dallacosta che cominciava a dire forse bisognerebbe pagarlo questo lavoro domestico perché in realtà io ero tutta spinta a uscire dalla casa, dovevo fare il mio lavoro, dovevo cercare di conciliare anche con la mia vita, con figli, eccetera, e non volevo assolutamente pensare che il mio lavoro sarebbe stato quello domestico. Quindi ci sono veramente, storicamente, insomma, questa situazione si è trascinata e mi pare che oggi poi le donne sono molto più emancipate da ragazzi giovani molto facilmente, insomma, stanno fuori casa, anche quando si sposano, rivendicano questa cosa, non fare le casalinghe di certo se possono, ma in realtà la distribuzione del lavoro domestico e del lavoro di cura tra le mura domestiche, ma anche fuori, perché poi si tratta per esempio di assistere anziani, di portare i bambini a scuola e al parco, eccetera, eccetera, è sostanzialmente ancora in gran parte sulle spalle delle donne in tutto il mondo. Paolo, che ce ne parlerà in modo diffuso, ha lavorato per 30 anni alla FAO occupandosi di riforma agraria, diritti fondiari delle comunità locali, diritti delle donne alla terra, sviluppo territoriale e conflitti legati alla terra, è editore della rivista Riforma Agraria della FAO, è stato fino al 2007, ha pubblicato diversi libri, Marn, Ross, di Bambos, la crisi agraria ed ecogenetica spiegata ai non specialisti, è uno che mi ha chiesto anche di fare la prefazione che quindi ho affrontato con lui anche approfondendo, e l'ultimo, quando Eva bussa la porta, donne, terre, diritti, che pone proprio questo problema nell'ambito agricolo e contadino della divisione casalinga del lavoro tra uomo e donna, che impedisce poi in realtà anche l'accesso alle donne alla propietà, no? È la prima fase che impedisce l'accesso alla donna alla propietà. ne parlerà, discuterà un esperto di indice di parità domestica, che è tutto il lavoro che qui va rappresentato, su cui Paolo, Marco, Elettra e altre hanno lavorato in questi mesi, ed è anche lui un senior economist della FAO con competenze nell'analisi della sicurezza alimentare, resilienza e povertà, utilizza metodi econometrici per valutazione di impatto e quindi ha un'esperienza particolare da questo punto di vista. Ha un dottorato di ricerca dall'Università di Bologna, ha contribuito alle decisioni politiche e di risorse in area di crisi per la FAO e insegna tuttora all'Università la Sapienza. Il suo lavoro si concentra su resilienza, povertà, protezione sociale e impatti delle politiche di giudizio. Io lascerei la parola immediatamente a Paolo, a cui chiedo insomma di introdurre il lavoro che hanno fatto con il gruppo iPad e dopodiché, naturalmente, chi vorrà porre delle domande, come al solito, è pregato di segnalarlo e di farcelo sapere. Ci sarà anche uno spazio per il dibattito. Grazie. Allora, parto io. Cristopher, siamo online sia su YouTube, su Facebook e tutto. Sì, sì, già da parecchio tempo. Perfetto. Allora, intanto buon pomeriggio a chi ci ascolta attraverso i vari canali. Ne approfitto per salutare il mio fratello Bruno, che è, cosa che voi non sapete, ma è stato collega della Maria Rosa nella Facoltà di Scienze Politiche nei primi anni 70 a Padovo, quindi casomai alla fine potrà dircene qualcosa anche lui, insomma, e non solo della Maria Rosa, ma anche della Lisi da Re. Citeremo questo lavoro. Un anno fa abbiamo pubblicato questo libro, Quando Eva bussa la porta, e fondamentalmente questo riprendeva preoccupazioni portate avanti da anni, quando ero in FAO, sulla questione del diritto di accesso alla terra e più ampiamente i diritti di proprietà rispetto alla terra e tema poco trattato, diritti di ereditarietà rispetto alla terra. Ma tutto il percorso, diciamo, di preparazione del libro, in cui ha lavorato anche mia figlia e un altro paio di specialisti, la Emma Siliprandi e l'Elisabetta Cangelosi, abbiamo pian piano ampliato l'ottica del discorso per uscire fuori dall'ambito ristretto e direi abbastanza tradizionale dei diritti alla terra per entrare sulla questione che con il tempo per noi è diventata molto più strutturante che la questione del patriarcato. Per cui, diciamo, c'è voluto tempo, studi, discussioni, approfondimenti e pian piano da questo interesse crescente è nata l'idea in cui ha avuto una parte molto importante anche Marco in quanto, come dicevo prima nell'introduzione, è uno specialista nel tema degli indicatori e degli indici di tradurre queste riflessioni iniziali attraverso uno strumento che è molto di voga, direi, nelle nostre società attuali che è quello di avere un indicatore per misurare queste assimetrie. Cioè andare al di là di un discorso solamente, direi, tipo sociologico, cioè ricordare l'esistenza di queste assimetrie, quanto importanti siano, ma cercare di affrontarlo in un modo diverso di quello che faremo adesso in questa presentazione. Per fare questo abbiamo proposto a una serie di amiche, amici, colleghi e non di entrare a far parte di questo gruppo aperto di cui i membri attuali, diciamo, li vedete qui sotto elencati, ma il gruppo resta aperto per cui l'idea di fondo è e chi vuole partecipare alla discussione, apportare esperienze, contributi, critiche, eccetera, diciamo, semplicemente si aggiungerà al gruppo che è in fase di ampliamento, soprattutto in America Latina, cosa di cui parleremo più tardi. Di fondo, ecco, il tema è che la sfera domestica, considerata a lungo come un luogo di retratezza politica, viene considerata sempre di più da parte di alcune note femministe come un cuore pulsante delle iniziative più radicali. Su questo, ricordiamo, la sfera domestica viene considerata un po' come il luogo in cui le donne vengono domesticate e l'organizzazione degli spazi al suo interno riflette queste assimetrie di genere. Laura ha ricordato prima da dove siamo partiti, ecco, come dicevo prima, Maria Rosa Dalla Costa e il gruppo di lotta femminista di Padova è stata molto importante per aprire questa discussione nel 72, quindi oltre 50 anni fa, a queste prime persone si sono aggiunte progressivamente l'amica di Laura, Antonella Picchio, successivamente la Silvia Federici, che ha portato, diciamo, a un orizzonte anche geografico molto forte oltreoceano e voglio ricordare anche la Lisi del Re su questi temi. Avevano, diciamo, questo insieme, questo gruppo di persone, donne, tutte, avevano mostrato la strada, cioè che se si voleva iniziare un cammino di uguaglianza donne e uomini, pur nella diversità, bisognava mettersi a lavorare sulla questione dello sfruttamento domestico delle donne, cioè la base su cui poggia il sistema patriarcale e, di conseguenza, consideriamo tutti noi il sistema capitalistico. L'attribuzione automatica a uomini e donne di qualità considerate come intrinsecamente maschile o femminile è strettamente legata a un giudizio di valore che svilisce o non riconosce il femminile. La casa, diciamo, è il luogo dove c'è questa mutua costituzione dell'ordine della casa e di genere. La casa si pone, dal punto di vista materiale, in quanto luogo delle attività domestiche, ma anche dal punto di vista simbolico, come la sfera tipicamente femminile. Ecco, è lì dove diventa centrale la questione dell'esperienza di genere. Cominciamo a mettere qualche dato su queste prime considerazioni. Queste sono date che troviamo nel rapporto Eurofund dell'anno scorso, quindi sono un quanto di più recenti abbiamo. Per quanto riguarda la cura dei figli, ecco, diciamo, la sensazione che tutti noi probabilmente abbiamo a pelle, considerando le nostre esperienze familiari, è che già senza figli c'è una disparità, in termini di ore di lavoro non pagato per la donna e l'uomo, ma mano a mano che aumenta il numero di figli la cosa diventa ancora molto più eclatante. I numeri che vedete sono orari settimanali di lavoro e vedete come passando da zero figli a tre figli la differenza diventa molto, ma molto evidente. Laura all'inizio ha ricordato questa femminista e teorica politica inglese, la Carol Paterman, la quale da anni asserisce che la dicotomia tra il privato e il pubblico sia centrale in quasi due secoli di scritti femministi di lotta politica e secondo lei è, in definitiva, ciò su cui verte il movimento femminista. Dati ce ne sono ancora pochi. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo un'indagine fatta dall'Indesi secondo la quale il 79% delle donne italiane dichiara che di solito pianifica la maggior parte delle faccende domestiche e il 76% afferma di svolgere anche la maggior parte dei lavori. Con la pandemia quello che sappiamo così a spanne è che la situazione è ancora peggiorata. Se andiamo a guardare a livello europeo, sempre dal rapporto Eurofound dell'anno scorso, abbiamo una differenza molto marcata, la vedete qui presentata in termini di orari di lavoro. Sono le donne che si occupano del 74% effetto delle attività domestiche e quotidiane contro solo il 42% degli uomini. È importante, diciamo, sottolineare queste differenze non in un'ottica, diciamo, colpevolizzante nei confronti del maschio, perché tutto il nostro discorso, il fatto che siano due maschi a voler riaprire questo discorso a nome del gruppo più ampio che abbiamo, è perché vogliamo fondamentalmente cercare di portare dentro anche gli uomini in questa riflessione. La cosa interessante è che pian piano, diciamo, un tema che sembra ancora essere molto marginale nelle discussioni femministe e direi assente dalle affermazioni, discussioni, prese di posizione dei partiti cosiddetti di sinistra, è che malgrado questo silenzio assordante si è arrivati anche alle Nazioni Unite all'interno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile a mettere in chiaro che questo deve essere uno degli obiettivi importanti. Parlo in particolare dell'obiettivo 5.4 che dice riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie conformamente agli standard nazionali. È importante perché è la prima volta che a livello dell'ONU si arriva a mettere nero su bianco la problematica del lavoro di cura. Assieme a questa problematica un altro concetto che comincia a farsi strada che anche questo viene direi dall'esperienza quotidiana che probabilmente voi tutte donne avete provato ancora più di noi maschi è la questione della time poverty cioè questa sensazione cronica di avere troppe cose da fare e poco tempo per farle. Quindi è un tema diciamo che quando parliamo o pensiamo alla questione di troppe cose e poco tempo può avere vari tipi di soluzioni cioè una è sempre quella tecnologica cioè avere più macchine la lavatrice, lavastoveglie e compagnia che possono permettere di risparmiare tempo e quindi fare più cose senza intaccare l'equilibrio strutturale o il disequilibrio strutturale all'interno della coppia possiamo aprire la discussione di quello che hanno fatto da 50 anni Maria Rosa, Lisi, Silvia, Federici ed altre a parlare della discussione sul salario al lavoro domestico oppure quello che noi cerchiamo di fare è parlare del tema della condivisione dei compiti per noi il punto centrale di questa proposta dell'IPAD non è la retribuzione il salario per le attività domestiche ma il tempo e la sua ripartizione a tutta una serie di compiti che vanno fatti per tenere in piedi una coppia o famiglia di qualsiasi tipo sia omosessuale o eterosessuale attività e esempi sono accudire i figli, i genitori anziani pulire i cessi lavare i piatti tutto quello che viene indietro non solo nel mondo del fare ma anche nel ricordarsi pianificare e monitorare il tema della time poverty anche questo ormai è entrato nel lessico mainstream delle Nazioni Unite ed è importante quando pensiamo alla nostra mamma FAO che ci ha dato ci dà ancora da vivere ecco è interessante ricordare come la FAO Gender Policy per questo decennio ha introdotto per la prima volta quindi al pari della tematica della cura anche la questione il concetto del time poverty tempo e non denaro secondo noi mettere tempo maschile è fondamentale per liberare tempo femminile quindi quello che noi cerchiamo di stimolare è che anche i maschi mettano più tempo dentro il mondo di compiti domestici il tempo liberato non ci riguarda noi maschi ma deve restare una scelta personale delle donne molto schematicamente la situazione com'è il giorno d'oggi con i dati che abbiamo tradotti in orari quotidiani ore giorno per maschi e femmine il disequilibrio è molto evidente ecco il sogno nostro è di partire su un cammino che vada nella direzione verso destra come lo indica questo grafico e vorremmo quindi che si liberasse tempo ma per liberare tempo la soluzione non è solo la tecnologia non è solo la politica pubblica di servizi asili ma passa anche necessariamente per un maggiore coinvolgimento del maschio quindi da lì è nata l'idea di un indice di parità domestica che diventi uno strumento di monitoraggio di incoraggiamento e advocacy per una vera uguaglianza di genere la ragione principale di un indicatore di un indice di questo tipo è essenzialmente diciamo di spingere e permettere di fare il lobbying per una maggiore uguaglianza partendo come detto dalla sfera domestica ma attraverso un monitoraggio costante e in quest'ultima diciamo nella sfera domestica che i rapporti di potere patriarcali si estrinsecano in maniera più subda e strutturale creando di fatto la base materiale per la sovrastante economia di stampo capitalista nella sfera domestica lo sapete meglio di noi non si riproduce solo gratuitamente la mano d'opera ma si creano e mantengono quei rapporti di sottomissione uomo-donna che ritroviamo pari pari nella visione dominatrice dell'uomo sulla natura ed è da qui che nasce la nostra visione critica dell'enciclica del Papa l'ha laudato così che benché globalmente diciamo proponga una visione di maggiore armonia tra l'essere umano e la natura di fatto è impostata sull'idea di un rapporto fra diciamo il maschio dominante e la natura noi crediamo che prima di diciamo di aprirsi al mondo della natura nella ricerca di un nuovo equilibrio sarebbe necessario che anche il Papa e chi dietro scrive le encicliche cominciasse a pensare di più a quel mondo femminile che per ovvie ragioni conoscono un po' meno cioè la parità va prima portata dentro casa per poter poi estrinsecarla a livello pubblico per quanto riguarda il rapporto con la natura perché di fatto sono le stesse cioè il dominus maschile nei confronti della natura è quello che nasce all'interno della sfera domestica per chi l'abbiamo pensato questo indice di fatto essendo l'idea di fondo di avere uno strumento di advocacy è stato pensato per non per qualsiasi pubblico ma per gruppi associazioni e o movimenti potremmo anche dire partiti che esprimono posizioni pubbliche impegnate a favore della parità di genere cioè dove esiste almeno già una retorica pubblica a favore dell'ugaglianza di genere l'IPAD essenzialmente dovrebbe permettere di mostrare l'esistenza o meno della coerenza tra il discorso la parola e le azioni concrete intraprese al loro interno per stimolare le persone partecipanti a iniziare un percorso di cambiamento verso una vera ugualianza già questo ci dice che l'IPAD non è pensato per qualsiasi tipo di controparte ma anche all'interno del mondo così detto progressista quello che a noi interessa è chi abbia voglia sul serio di aprire la discussione sulla sfera domestica in un'ottica che sia diciamo dei tempi necessari ma con lo scopo di incentivare da parte della componente maschile una presa di coscienza di questa situazione che ormai non è più tollerabile e quindi evidenziare la necessità di questi cambiamenti con un monitoraggio costante sei mesi un anno quello che sia per vedere e trovare assieme delle azioni di stimolo di coscientizzazione in modo che pian piano l'indicatore cominci a muoversi verso valori positivi come fare come nel dettaglio questo tipo di indicatore io qui mi fermo e passo la parola a Marco grazie Paolo buon poveriggio o buonasera a tutte e tutti e ringrazio in particolare tutti voi per averci ospitato qui è molto bello stare qui e speriamo di ricevere buoni feedback e riuscire a stimolare un po' la discussione in seguito ai lavori che abbiamo iniziato a fare in questo gruppo di lavoro dunque Paolo ha presentato bene tutto il background quindi a me tocca la parte più semplice fortunatamente che sia la parte legata ai numeri e intanto stavo ragionando sul fatto che nonostante mi possa appreggiare di far parte di questo gruppo di lavoro in questo momento la mia famiglia rappresenta bene 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 la dicotomia più tipica perché ci sono io qua che lavoro e mia moglie che si sta prendendo cura dei due bambini al di là di quella porta quindi mi sento in parte colpevole ma non me ne vogliate insomma è un discorso necessario in questo momento ma comunque penso che ci ci bilanciamo in questo tipo di lavoro allora evidentemente ciò che noi stiamo proponendo qua è una cosa preliminare e aperta ovvero sia è frutto dei ragionamenti delle riflessioni dei discorsi fatti all'interno del gruppo di lavoro ma uno dei motivi principali o forse il motivo principale per cui cominciamo a portare in giro questa idea è per ricevere feedback perché abbiamo bisogno di testarla capirla vedere dove siamo deboli dove possiamo migliorare e quindi è evidente che diciamo non soltanto sono benvenuti i commenti ma sono proprio ricercati questi commenti nel momento in cui abbiamo iniziato a pensare di creare questo indicatore di parità domestica abbiamo evidentemente pensato a un indicatore che compone che è fatto da tante altre da tante diverse variabili è evidente che ci sono già alcuni esempi in giro nella letteratura quindi ce ne siamo andati a cercare ma le prime due domande che ci siamo dovuti porre è il quadro analitico il peso da dare a ogni singola variabile partendo dal punto numero uno sia il quadro analitico in cui collocare questo indicatore di parità domestica abbiamo voluto ispirarci al lavoro fatto dall'istituto statistico francese dunque esistono diverse soluzioni esistono diverse cose presenti in natura nel paper che abbiamo coautorato tutti quanti ci sta le citiamo ovviamente tutte o almeno i principali noi ci siamo voluti appoggiare a quello che è stato disegnato dall'istituto nazionale di statistica francese per un motivo molto semplice che ci dà la possibilità di essere molto neutri da un punto di vista demografico sociale e culturale ovvero sia sono è una organizzazione analitica è un quadro analitico che non risente di preconcetti culturali sociali e ambientali fatemi dire per cui si poggia su questi tre ambiti ristretto intermedio allargato che sono ben adattabili a tutto quanto a qualunque tipo di contesto con questo voglio fare esplicito riferimento a diversi tipi di coppia diversi tipi di culture diversi tipi di religione diversi tipi di società diversi tipi di mondi in generale per cui vuole essere volutamente e per disegno un indicatore assolutamente neutro da ogni punto di vista questi tre ambiti che vedete qua rappresentati ristretto intermedio allargato si differenziano per una serie di cose intanto l'ambito ristretto riferisce a tutte quante queste attività che possono in qualche modo essere delegate ossia dal prendere i bimbi per dire io sono appena tornato dal prendere i bimbi da scuola potevamo mandare per esempio una babysitter o potevamo mandare qualcun altro o il lavare come diceva l'esempio che diceva prima Paolo il lavare i panni possiamo delegarlo a delle macchine che fanno tutta la parte di lavaggio di asciugamento eccetera il secondo ambito è un ambito intermedio che rappresenta attività un po' più legate al divertimento per il singolo individuo quindi ne portiamo l'esempio del hobby tipo giardinaggio eccetera e l'ultimo ambito l'ambito allargato riferisce più ai tempi di percorrenza ai tempi di attuazione delle singole attività quindi come vedete con questa tripartizione è agio includere tutte le varie possibili specificazioni culturali ciò vi dà anche la possibilità di spiegare adesso ma ne riparerò in seguito noi proponiamo questa tripartizione da un punto di vista di quadro poi quello che viene messo dentro deve essere soggetto a una negoziazione in alcun modo in alcun modo il gruppo di lavoro autore di questo indice di parità domestica si propone come propositore di quelle che sono le varie attività che vanno incluse qua dentro ora a questo che è il quadro delle attività secondo l'Istituto Nazionale Statistica Francese noi abbiamo voluto aggiungere il lavoro di altri autori che sottolineano la rilevanza del carico mentale per dirle in maniera molto più semplice tutte le attività listate qua dentro hanno precedentemente un'attività di organizzazione qualcuno ha dovuto pensare per dire a prendere una babysitter per andare a prendere i bambini a scuola oppure qualcuno ha dovuto pensare a fare la spesa insomma c'è un tipo di lavoro mentale che noi vogliamo includere in questo indicatore eccoci qua questo è un esempio di quello che può essere l'indicatore di parità domestica sono veramente esempi parleremo ancora dicevo più dettagliatamente più avanti di come scegliere le variabili da includere nei vari ambiti però appunto questo può dare un poco un esempio un'idea di quelle che possono essere alcune delle dimensioni che vengono incluse nei vari ambiti noi abbiamo provato a immaginare per esempio all'interno del lavoro domestico quali possono essere alcuni degli aspetti da includere e vorremmo includere per esempio cucinare pulizia ma vorremmo semplicemente una proposta più che altro per far capire che tipo di aspetti devono essere inclusi all'interno di questi ambiti che ripeto sono pensati per poter includere tutte le differenti attività che vengono svolte all'interno di una famiglia quindi una famiglia diciamo il funzionamento di una famiglia ecco altri esempi li abbiamo racchiusi qua variabili che possono essere la lavanderia raccogliere i panni sporchi metterli in lavatrice fare bla 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 tutti quanti questi aspetti ciò come dicevo va a consumare la maggior parte del tempo libero a consumare la maggior parte delle risorse anche mentali che ogni partner all'interno della famiglia che decide di prendersi in carico di queste cose ovviamente poi dovrà dare ora lasciatemi spendere qualche parola sulla natura co-costruttiva dell'IPAD per noi questa è la parte più delicata e più importante ovvero sia come abbiamo detto prima ci sono questi tre ambiti ristretto intermedio e allargato ma che cosa ci mettiamo dentro questi tre contenitori ok abbiamo tre cassetti che compongono questa specie di armario va bene che ci mettiamo là dentro beh non può essere Paolo non può essere Marco non può essere nessuna persona che prioristicamente dice quali sono le parti importanti da includere all'interno di questi cassetti e questa cosa può essere frutto solamente la scelta delle variabili quindi la scelta degli indicatori e quindi la rappresentazione ultima di ciò che costituisce la vita all'interno di un nucleo familiare può essere detta soltanto da chi quel nucleo familiare vive in maniera equa perciò a dire i due partner che fanno parte di un gruppo familiare sanno loro quali sono le cose rilevanti in questo modo in questo modo noi ci togliamo completamente tutta la componente di preimpostazione di quelle che sono le parti rilevanti e le cose rilevanti per la vita per il normale funzionamento della famiglia in qualsiasi contesto perché va da sé che quelle che possono essere le attività e di conseguenza i carichi mentali importanti per una coppia eterosessuale che vive non lo so a Roma sono diverse da quelle che possono essere per una coppia eterosessuale che vive a New York una che vive a Dolo in Somalia una che vive a Bangkok una che vive in Coluca e ancora di più poi andando ad aggiungere tutte quante le diverse possibili specificazioni di coppia per cui si apre una panoplia di opzioni che non possiamo essere noi a limitare ma devono essere ben rappresentate all'interno dell'indicatore di parità domestica ed ecco per cui il motivo per cui noi proponiamo una natura co-costruttiva di questo indice di parità domestica a seguito di dialogo e negoziazione le attività adesso quindi abbiamo parlato di quelle che saranno le attività che vengono scelte all'interno dell'ambito familiare va bene poi quale peso dare a questa attività vi ricordate che all'inizio della mia presentazione ho detto il quadro analitico e ne abbiamo parlato adesso parliamo del peso da dare a ogni singola attività perché dico questo perché nella storia degli indicatori multidimensionali ci sono diversi modi di approcciarsi uno è dare a tutti lo stesso peso un altro è dare un peso preimpostato ad alcune cose se pensate per esempio allo Human Development Index ci sono alcuni aspetti che pesano di più e alcuni aspetti che pesano di meno bene per noi abbiamo pensato di dare a tutte le attività lo stesso tipo di peso che vuol dire questo vuol dire che se le attività dico per dire incluse all'interno degli indicatori di parità domestica no parità domestica sono per esempio prendo due esempi a caso portare i bimbi in palestra nella palestra o a calcio o piuttosto che a danza qualunque altra cosa e un'altra attività può essere ordinare la spesa su globo bene sono due attività che in termini di tempo e in termini di soldi hanno una componente estremamente diversa per noi devono avere tutte lo stesso peso perché sono le attività che consentono di andare a mandare avanti la famiglia per cui daremo questa valutazione qua questo peso qua se solo il partner A utilizza un diciamo è occupato in questa in questa attività prenderà un meno uno se è solo il partner B più uno e poi i tre valori intermedi quindi a un'attività X corrisponde un certo valore per chi si occupa di quella attività l'idea è di prendere un campione rappresentativo di tutte quante le famiglie che fanno parte della della ce la facciamo ok della nostra del del gruppo di lavoro su cui stiamo lavorando per cui nell'esempio che diceva Paolo prima un partito un gruppo di campesinos un gruppo di lavoro un ente privato una società di lavoro un'agenzia come un'agenzia delle Nazioni Unite un gruppo di persone verrà appunto analizzato da questo punto di vista e quindi l'idea è che se la situazione fosse paritaria equalmente distribuita avremo una soluzione prossima allo zero perché se è zero significa che le attività sono equodistribuite se invece ci sta un valore spostato verso sinistra e verso destra vuol dire che uno dei due partner sta lavorando di più sta impegnandosi di più sta passando molto più dedicando molto più del suo tempo a queste attività una cosa importante per noi da sottolineare è che qua si parla di studiare il trend cioè noi quello che vorremmo vedere è il miglioramento perché come diceva Paolo prima si tratta di uno strumento di advocacy e monitoraggio per cui noi vogliamo far sì che le persone possano prendere coscienza con quelle che sono le realtà all'interno del nucleo familiare ma anche prendere coscienza di come le cose possono migliorare ed ecco perché per noi è estremamente importante verificare le ipotesi che abbiamo qui e nucleato queste sono 5 ipotesi di ricerca che noi abbiamo formulato all'inizio del nostro progetto di studio una ipotesi la prima ipotesi che andremo poi a verificare una volta che faremo una raccolta di dati è l'assunto secondo il quale le coppie omosessuali sono più bilanciate delle coppie eterosessuali ovvero sì esiste tutto un filore di letteratura che dice appunto che le coppie omosessuali sono un po' più coscienti della stabilizzazione tra i ruoli delle tue partner e di conseguenza lo approcciano in maniera più egalitaria una seconda ipotesi è che nelle coppie con più figli invece la disparità probabilmente aumenta perché ovviamente più aumentano i figli più è probabile che uno dei due partner vada ad occuparsi molto di più dei bambini una terza ipotesi è quella di considerare che le famiglie più agiate molto probabilmente esternalizzano maggiormente le attività domestiche perché hanno più capacità di appunto assumere personale a ciò che si possano curare dei figli oppure mandare figli in queste scuole dove i bambini entrano a scuola prestissima che escono molto tardi nel pomeriggio quasi sera la quarta ipotesi riguarda la asimetria di collocazione sul mercato del lavoro che può essere associata alle singole coppie ovvero sia c'è uno dei due che si occupa principalmente della parte lavoro e uno dei due che si occupa principalmente dell'aspetto familiare abbiamo avuto diverse discussioni con Paolo con casi anche in cui era la donna occuparsi principalmente della parte lavorativa e l'uomo era quello che stava a casa a portare diciamo a occuparsi più della parte più strettamente diciamo tecnicamente familiare e l'ultima ipotesi che vorremmo testare è quella che riguarda il ciclo di vita della coppia cioè a dire che se una coppia che sta insieme da meno tempo tende a essere più egalitaria mentre invece nell'andare avanti della coppia piano piano si va a scadere verso posizioni in cui uno dei due tende alla fine ad adagiarsi noi vorremmo raccogliere questi dati all'interno di tutte le coppie vorremmo fare questa intervista ad hoc in cui intervistiamo entrambi i partner separatamente e questa sarà la parte probabilmente più interessante cioè vedere come la propria proiezione del ruolo che noi svolgiamo all'interno della coppia viene poi riflessa dalla proiezione del partner e quanto siano distanti questi due aspetti c'è una parte che noi ci interessa anche di verificare ed è quella della soddisfazione soggettiva ovvero sia come purtroppo sappiamo bene esistono delle situazioni in cui quasi sempre la donna all'interno della coppia non si rende neanche conto di ciò che le manca di ciò che viene sottratto al suo tempo e alle sue tensioni e alla sua energia per cui molto spesso può succedere di vedere davanti a sé una coppia completamente sbilanciata con la donna che dice sì però a me va bene così quindi noi vorremmo usare questo indicatore anche per far emergere questa soddisfazione soggettiva e vedere se nel tempo poi le cose cambiano fatemi usare un esempio pratico qua abbiamo fatto una serie di simulazioni ovviamente in cui forse è ancora più utile questa qua come coppia allora qua nella parte sinistra vedete visto da il partner A ritiene che la maggior parte delle cose le faccia lui il partner B nella parte destra ritiene che la maggior parte delle cose le faccia lui invece nella media ci dà un valore un po' più orientato verso il partner A quindi vuol dire che c'è un partito di riconoscimento del partner B che il partner A sta facendo più cose ma al tempo stesso abbiamo due visioni completamente discordanti perché secondo il partner B molta parte viene fatta da lei o lui e secondo il partner A uguale per cui come vedete in ogni modo siamo abbondantemente allontani da una situazione più condivisa tra A e B ecco questa è la parte che noi vorremmo fare per cui ripeto concludo e poi passo la parola di nuovo a Paolo per le sue conclusioni spero di essere rimasto all'interno del tempo per noi la cosa importante è partire con piccoli gruppi da analizzare con la parte di co-costruzione iniziale che è fondamentale per in economia diremmo specificare il modello ossia fare un modello attinente a quelle che sono le realtà che vogliamo studiare ed è altresì fondamentale che oltre alla co-costruzione ci sia la condivisione di un percorso che possa darci la possibilità di tornare dopo un po' di tempo a studiare se le cose sono cambiate ovviamente si spera in senso migliorativo e di includere tutte le possibili eterogeneità socio-culturali demografiche che sia possibile prendere con questo Paolo io concludo mi sa che se non sbaglio che resti su questa slide qua o vado alla prossima no la metto io l'ultima Marco eh sì perfetto voilà allora credo che sia abbastanza ovvio quello che abbiamo scritto in questa conclusione cioè noi crediamo fortemente che un cambio nella sfera domestica sia centrale nella costruzione di un mondo diverso e migliore eh mio padre era un muratore e mi ha insegnato che bisogna prima occuparsi delle fondamenta della casa se le fondazioni sono fatte male prima o dopo la casa verrà giù quindi siccome si parte dalla famiglia e dal come il luogo del diciamo del dominio eh storico ma non eterno del maschio sulla femmina e lì dentro che dobbiamo cercare di far cambiare evolvere questi rapporti una società che ha dato un ruolo chiave agli indici ci sembra che accompagnare il lavoro di lobbying dal basso con uomini e donne per una reale condivisione del tempo eh attraverso quindi un indice che misuri e renda pubblica queste tendenze sia quanto di più appropriato in questo momento storico cioè noi ce lo siamo immaginati all'inizio quando mettiamo che per la prima volta in un partito progressista una donna arrivi al ruolo di segretaria contro l'avviso degli elefanti di questo stesso partito ecco ci siamo detti metti caso che ci sia un interesse per aprire diciamo questa riflessione per poter arrivare a dire noi che siamo progressisti ci interessiamo all'uguaglianza fra le donne e l'uomo non solo nella sfera pubblica per cui difendiamo salari uguali per cui difendiamo politiche pubbliche eccetera eccetera ma anche al nostro interno perché sappiamo che di fatto storicamente anche il nostro partito è stato un partito ed è ancora un partito tendenzialmente dominato dai maschi per cui vogliamo rendere pubblico questo sforzo attraverso un indicatore come questo qua IPAD questo era il nostro sogno attualmente abbiamo delle discussioni in corso perché questo impianto diciamo teorico che vi abbiamo presentato ha bisogno di essere testato quindi giusto per annunciarvelo siamo in discussione con un gruppo di ricercatrici femministe in Paraguay cosa interessante è che siamo appoggiati dalle Nazioni Unite locali non tanto la fama proprio rappresentante residente ONU per testare l'IPAD con un'organizzazione contadina secondo siamo in fase di discussione con la fattoria sociale il pomodoro a Vicenza per fare un test IPAD con ragazzi e genitori quindi un'altra dimensione che non avevamo nemmeno considerato all'inizio terza siamo in discussione con diciamo con il gruppo di donne contadine della Unione dei Tavaccatori della Tierra di Argentina per provare un test dell'indicatore perché l'Argentina banalmente perché cinque anni fa queste donne contadine di questo sindacato hanno pubblicamente in una conferenza da loro organizzata hanno detto come manifesto pubblico ai loro uomini che prima di continuare a parlare di riforme agrarie o di rivoluzioni agrarie dovevano prima di tutto cominciare a mettere del loro tempo dentro casa dopodiché si poteva anche andare a parlare delle riforme agrarie e quindi stiamo cercando di contattarle non è facile ma perché sapete le situazioni dell'Argentina insomma in questo momento in Paraguay perché mi è capitato 15 anni fa di lavorare per il primo presidente non militare diciamo non conservatore che era stato eletto un vescovo che aveva nella sua agenda il tema della riforma agraria per cui mi aveva chiamato personalmente a farli da assessore da consulente e lì ho conosciuto una serie di persone fra cui un paio di economiste con le quali adesso abbiamo ripreso i contatti e stiamo vedendo di preparare una proposta per questo test Vicenza c'è perché alcune delle persone del gruppo sapete io sono originario di Vicenza abbiamo la Francesca Lazzari che è l'assessore provinciale per l'uguaglianza di genere e abbiamo Roberto Roberto Marchi che è membro della fattoria sociale Pomodoro dal momento della sua creazione per cui siamo abbastanza fiduciosi che uno o più di queste discussioni nei prossimi mesi si tradurrà in pratica ne abbiamo anche un'altra che sta spuntando grazie a Marco ma di questa ne parleremo nei prossimi mesi noi attualmente siamo in situazioni in cui abbiamo bisogno di due cose e quindi questa prima presentazione è fatta essenzialmente al gruppo Ecofem e chi altri volesse partecipare chi la guarderà studenti professori quello che sia a partire da dopo domani quando sarà liberamente disponibile ecco diciamo noi ci interessa un un accordo politico un appoggio politico da parte di voi Ecofem per per aiutarci a riaprire questa discussione che è ancora molto marginale e diciamo che avrebbe bisogno sul serio diciamo di una spinta attraverso vari canali uno di questi sarà un articolo che abbiamo preparato con Marco e con Laura per la rivista Marea di Monica Lanfranco che uscirà il mese prossimo il mese di marzo in occasione dei 30 anni di vita di questa rivista ma insomma abbiamo bisogno di questo appoggio politico secondo argomento invece molto più tecnico riguarda critiche consigli per quanto verte specificamente sulla costruzione dell'indice ci sono una serie di ipotesi che Marco ha presentato del peso uguale delle varianti delle dimensioni da considerare questo no sì come eccetera sono tutte come l'ha detto fin dall'inizio aperte soggette a discussione però sono due spazi diversi diciamo con l'appoggio politico possiamo aprire una discussione e andare entrare in altri circoli per far conoscere le idee dopo di che l'ipad come tale potrà e dovrà essere migliorato ma diciamo ricordiamo che abbiamo bisogno di questi due tipi di aiuti con questo ringraziamo tutti i partecipanti e apriamo la discussione dunque intanto vi ringrazio perché è un'iniziativa assolutamente all'avanguardia nel senso che non mi pare che ci siano altri gruppi che stanno lavorando in questo senso sarebbe interessante appunto se ne trovate altri anche in America Latina effettivamente sentire e capire come io voglio semplicemente portarvi la mia esperienza perché questo induce anche magari ad affrontare campi simili a quelli che io ho vissuto quando mio figlio aveva più o meno tre anni io ho incominciato a pensare visto che mi sono sempre occupata di politica di movimento e così via con il mio gruppo allora i Verdi di entrare in Parlamento e questo era diventato una necessità dopo che si è successo Cernobil perché sembrava veramente che bisognasse dare una svolta in Italia questa cosa ha comportato ovviamente un cambio nella mia famiglia io avevo questo figlio di tre anni mio figlio il mio marito faceva l'insegnante a Torino e io sono dovuta essere a Roma moltissimo almeno tre giorni quattro settimana e poi quando sono diventata capogruppo perché mi è stato chiesto anche di svolgere questo ruolo alla Camera effettivamente ero sempre lì eravamo un gruppo piccolo dovevo girare dappertutto eccetera quindi io non potevo più occuparmi di mio figlio non era tanto di convidere condividere è che io non mi potevo occupare perché ero praticamente sempre assorbita da questa attività politica per cui effettivamente mio marito ad un certo punto riuscì ad ottenere dalla sua scuola professionale dove insegnava un'aspettativa lunga e si occupò lui totalmente del di mio figlio tant'è vero che di fatto ha svolto il mio ruolo cioè ha fatto la mamma e il mio figlio nei ruoli tradizionali lo portava a scuola andava a prendere lo portava a giocare a pallone faceva i incontri con gli amici faceva tutto lui a casa cucinava cosava eccetera quindi oltre che una divisione come voi avete posto probabilmente bisognerebbe anche pensare che i casi della vita a volte comportano addirittura proprio un assumersi totalmente da parte dell'uomo che non è assolutamente stato educato ed abituato ai risultati dei casi del ruolo no? ad esempio recentemente io purtroppo sono dovuta andare al funerale di mia cognata e i figli sono cresciuti per fortuna nel frattempo ma il fratello di mio marito in quel caso lì per esempio se fossero stati un pochino più piccoli avrebbe dovuto ma quanti no? a quanti succede? allora questo lo pongo perché bisognerebbe secondo me in questa analisi che facciamo anche capire il ribaltamento dei ruoli totali come paradosso di cambio totale di quello che viene insegnato e di quello che la società induce a portare avanti in campagna secondo me è anche altrettanto importante nell'agricoltura capire perché può succedere benissimo che con una serie di condizioni ci sia un ribaltamento totale pongo questo come problema e come domanda grazie Bonetta Ferrero grazie allora io parto dall'esperienza di mia madre che è un era e è ancora da escola viva per futuro una sessantottina che ha dovuto lasciare il lavoro per guardare me ok perché purtroppo l'hanno trasferita da Asti ad Alessandria per lavorare in quella città non c'era un familiare che potesse darle una mano e per cui ovviamente mio padre non mi passava neanche per l'antichiatura camera del cervello e per cui ha dovuto lasciare il lavoro e tornarsene a Casina e guardare me e poi ha guardato anche mia sorella per cui si è ritrovata senza pensione ovviamente dipendendo economicamente da mio padre completamente e via dicendo tutte cose già conosciute le ha cambiato completamente la vita ovviamente questa cosa l'ha cambiata anche a noi perché se lei avesse potuto continuare a lavorare ovviamente forse sia io che mia sorella avremmo potuto permetterci di andare all'università cosa che non è stata possibile c'è tutta una serie di cose per quanto parametri invece io mi sono persa il primo pezzetto però ho visto ho letto che praticamente abbiamo quando ne parliamo di figli ok ma io ci metterei anche la cura dei genitori perché per una buona parte della mia vita diciamo così dal 2000 almeno dal 2015 in avanti io sono diventata caregiver e mi sono occupata esclusivamente di cura di mio padre prima e di mia madre ora in questo momento sono in congedo perché mia madre si è aggravata per cui è in ospedale e devo seguire ho la fortuna di adesso ora di lavorare in un posto pubblico che mi garantisce la possibilità di usufruire di questo congedo che spetta per legge nel privato questa cosa è un pelo più difficile da gestire da ottenere infatti quando ero nel privato e avevo mio padre era molto più faticoso ottenere i permessi insomma non sentire il peso di un diritto che ti viene concesso a malavoglia diciamo così per fortuna nel pubblico almeno a me non succede questo o questa fortuna nella mia famiglia ci sono quasi tutte donne ma ci sono anche alcuni rari uomini a cui non passa neanche per l'anticamera del cervello di chiedere neanche se hai bisogno una mano ok nel senso che a volte bastano anche solo due ore in ospedale per consentirti di andare a fare una commissione andare a mangiare non è una cosa che loro devono fare dai cognati ai nipoti a per cui io sto rivalutando la mia eredità perché a mio nipote gli ho detto caro ragazzo o ci dai una mano o l'eredità io la do a qualcun altro perché non è tutto dovuto nella vita ok io se non sono sposata non ho figli ho solo un nipote ma a 24 anni credo che uno possa ancora cominciare a farsela passare l'idea che la nonna ogni tanto ha da guardare specialmente una nonna che ti ha allevato per 14 anni cioè culturalmente ancora i giovani sono un pochino tornati indietro forse ce n'era qualcuno che è andato un po' avanti ma io adesso li vedo un pochino individualisti egoisti non so come dire forse sarà l'età ma non so è una cosa che mi piacerebbe capire se i giovani d'oggi percepiscono questa necessità forse nelle famiglie qualcosina in più c'è ma non è non è non è scontato direi per cui farei la valutazione anche delle età cioè come sono le famiglie per età cioè i giovani mezz'età non so se vi sono spiegata bene grazie posso c'è si sei tu si bene poi dopo mi scuso perché devo anche scappare allora ho seguito con attenzione questa questa ingegnerizzazione della condivisione domestica la chiamerei così perché è stato proprio una scelta di parametri su cui secondo me c'è ancora qualcosa da lavorarci su sicuramente ad esempio quando si parla di organizzazione e di come dire quando c'è la disponibilità anche di avere persone che possono aiutare no una colf piuttosto che una babysitter eccetera e mi riferisco alla mia vita io metalmeccanica con marito metalmeccanico tutti e due informatici stesso orario di lavoro impegnati tutti e due come manager e due figli insomma questo è un caso classico ma ho visto anche in altre copie più o meno della mia età o adesso vedo i miei figli sostanzialmente come si stanno organizzando e la parte organizzazione avere delle colf avere disporre dei babysitter eccetera eccetera sicuramente è un vantaggio rispetto alla condivisione diciamo del lavoro domestico però è un lavoro grosso è un lavoro che non va sottovalutato primo perché bisogna avere soldi e per cui quota delle entrate devono essere messe per questo e però c'è anche tutto un lavoro di monitoraggio che si fa con queste persone che bene o male girano per casa e così via e questo diciamo e questo è uno dei parametri e un'altra sollecitazione che ho visto sulle ipotesi anche finali è il fatto di le coppie omosessuali io ho avuto tanti amici che sono coppie omosessuali due maschi e due femmine e in particolare il racconto delle due femmine che si sono sposate da poco che avevano un matrimonio eterosessuale alle spalle e hanno detto che adesso per loro la vita di coppia è un sogno perché una mi diceva pensa non devo neanche dire cosa deve andare a fare la spesa perché sa già quello che manca in casa allora è una battuta per dire o non è che mette su l'acqua della pasta mi diceva questa Manuela pur sapendo che c'è la minestra in frigo perché lei lo sa che c'è la minestra in frigo per cui non è che automaticamente un maschio io mi ricordo mio marito bravissimo metteva su l'acqua per la pasta a prescindere non si sa mai perché magari può servire ecco per cui sono cose che bene o male le abbiamo un po' per cui io raffinerei un po' questi parametri quello che mi collego a quello che diceva Simonetta sicuramente manca e manca forse lo avete fatto e non lo avete detto una profilazione di queste copie che andate a indagare a monitorare e così via perché il fatto di avere un'istruzione di un certo tipo piuttosto che in un'altra e cioè sono 50 anni che è stato scritto dalla parte delle bambine di Elena Giannini Bellotti siccome lo abbiamo presentato proprio per il 25 novembre quello è di un'attualità pazzesca quel libro io mi sono resa conto perché la cultura è tutto cioè il fatto di vivere in una famiglia o in un contesto anche contadino perché anche contadino può succedere dove mamma e papà fanno quello che c'è bisogno di fare in quel momento maschio o femmina che sia come dire ed è basato soprattutto più che su una condivisione sul rispetto dell'altro il rispetto della persona con cui si convive con cui si decide di convivere il tener conto delle sue esigenze piuttosto che delle proprie e dei propri piccoli egoismi eccetera eccetera è fondamentale e nella profilazione questo secondo me deve in qualche modo essere un elemento base questo è quello che è perché poi chi fa lava fa più lavatrici o chi fa più la cena o chi scopa più per terra cioè è relativo perché in una coppia si fa quello che serve nel momento in cui serve e chi è pronto e libero in quel momento deve avere rispetto siccome tu Marco adesso tu sei qua e tua moglie ha rispetto per il tuo lavoro cioè quante volte si ricambia questa cosa ecco per cui va bene l'analisi secondo me ma non si può perdere quello che è il rapporto diciamo tra le due persone altra cosa per quanto riguarda le ricadute sul lavoro che si hanno no la mancanza di percorsi di carriera e così via è un po' tutta la società che obbliga il fatto che è a rinunciare diciamo la carriera e la moglie perché per definizione è pagata di meno per cui nell'economia familiare e la donna che dice va bene almeno mi occupo dei figli cioè va anche un po' contestualizzato questo sono un'infinità leggevole statistiche le donne giovani che se non al primo la nascita del secondo figlio mollano il lavoro perché a quel punto la famiglia se no non sta più in piedi e ovviamente il maschio che prende più soldi e il maschio che ha più difficoltà a chiedere permessi come si diceva prima che i congeti parentali sono ridicoli perché non sono uguali per cui di fatto nell'economia familiare la donna dice me ne sto a casa io sono pochi i casi come Laura che diventa parlamentare come dire ecco il più delle volte è un discorso che viene fatto cuore in mano in famiglia ecco per cui per chiudere altra cosa che mi viene da dire la richiesta che volete fare alla fine di capire se una persona è soddisfatta o meno del suo tram tram familiare delle scelte che sono fatte di come l'andamento diciamo il clima della famiglia non dimentichiamo che molte donne e queste sono ricerche purtroppo con dimostrazioni scientifiche ricorrono a psicofarmaci per stare bene in famiglia è un altro aspetto che non va sottovalutato io stessa in certi periodi prendevo dei calmanti delle cose perché ero in carriera avevo i figli e mio marito era bravissimo però mi sembrava di approfittare troppo eccetera eccetera era un caso sono tanti periodi temporanei io mi ricordo mi svegliavo alle 4 di mattina l'attavo mio figlio per andare da Trieste a Roma perché avevo un gruppo di lavoro a Roma con mio marito bravissimo niente da dire ma ero io che mi sentivo a disagio perché era veramente troppo no? dopodichè si supera per l'amor di Dio ecco sono tanti fattori di contesto ma anche non solo di contesto ma che incidono su quello che poi è il risultato dei dati che andate a rilevare tutto qua io purtroppo devo salutarvi e ascolterò il dibattito successivo grazie grazie Gabriella ciao spero di ricordarmi tutto quello che volevo dire perché è un calderone di robe intanto parlo per quelli che hanno un'età forse un po' più bassa della media in questo momento e oltretutto da libro professionista che è un altro ambito completamente diverso perché voi parlate di congedi parentali bellissimo un libro professionista non sa neanche cos'è a prescindere quindi a volte si è obbligati a lavorare invece magari di notte quando si ha un po' di tempo i tagli perché è l'unico momento in cui magari c'è silenzio in casa quindi questo è magari un cioè lavoro dipendente lavoro da libro professionista o imprenditore sono due lavori molto molto diversi con esigenze anche molto molto diverse questo giusto per dire inoltre per quanto riguarda l'età il problema più grande adesso più che altro è fare figli perché nessuno li vuole più fare siamo in un'epoca tra l'altro post-covid dove la singletudine chiamiamola così viene super super promossa e quindi forse siamo arrivati a un paradosso facendo proprio l'opposto siccome tante volte le donne vedono lo stare con un uomo come avere un figlio e se non ce l'hanno non ne vogliono uno grande se devono averlo lo vogliono uno piccolo da educare quindi questo magari è anche un'altra cosa un effetto collaterale forse di tutto quello che stavate dicendo prima e inoltre anche le coppie omosessuali soprattutto adesso stiamo entrando in un'altra sfera molto interessante dove c'è questo famoso gender fluid dove io sono uomo sono donna poco non c'è più soltanto il genere c'è anche l'identità e questo bisogna fare molta molta attenzione perché le donne che vogliono sommigliare un po' più all'uomo per avere autonomia in realtà stanno tendendo a prendere anche tutte le parti negative dell'uomo quindi non mi interessa non lo faccio io mi concentro sulla carriera e quindi va un pochino a dire c'è un po' a ribaltarsi questa cosa adesso è l'uomo che deve sottomettersi perché per tanti anni l'abbiamo fatto noi e quindi bisogna fare attenzione anche un pochino a questo tipo di equilibrio che rischia di rigirarsi in questo modo qua e poi c'era un'altra cosa che forse pian piano rimetto le idee a posto comunque sicuramente per quanto riguarda il lavoro in casa il lavoro in casa adesso per certi versi è un po' cambiato forse le vignette quelle che si attaccavano sul frigorifero una casa pulita è segno di vita sprecata è entrata è stata incubicata in noi giovani quindi forse dedichiamo anche un po' meno un tempo alla cura della casa e prendiamo tutti i vestiti autostiranti e quelli che si asciugano velocemente con tutti i vestiti tecnici e quant'altro quindi forse una piccola soluzione in qualche modo la stiamo anche trovando soprattutto per i single perché appunto non hanno il tempo di fare tutto quanto c'è un'altra cosa che però mi sembra molto molto importante di cui secondo me si parla molto molto poco e di cui io parlo da tanti anni è non soltanto diciamo insegnare ai maschi di vedere le cose cosa che in realtà è una questione soprattutto molto non culturale ma soprattutto di educazione in realtà tante cose si possono educare non è che l'uomo non è capace di vedere certe cose è che se non si abitua a vedere certe cose è chiaro che non è non le vedrà ma semplicemente perché non gli è mai stato chiesto di farlo e quindi non si è mai preoccupato di farlo quindi a volte basta anche sull'educare ma l'attenzione a cui volevo una cosa su cui vorrei puntare è il fatto che l'educazione bisognerebbe farlo anche alle donne cioè la donna può chiedere ho sentito dei discorsi del mio marito non fa le cose però non è che la donna magari gli ha detto adesso magari questo magari l'ha fatto però tante volte succede che magari la donna non dice ecco vedi ci sono i panni lì non li ha presi e non li ha messi via e poi si arrabbia però se invece si comunica e si dice guarda che dovresti fare questa cosa qua chiaro che non basterà una volta sola bisognerà ripetere più volte perché perché la cosa diventi un'abitudine e non una tantum ma tante volte se le donne non fanno certe cose o ritornano un po' ai vecchi schemi è anche perché sono le altre donne a riportarlo molto più di quanto non facciano gli uomini soprattutto adesso almeno per la mia esperienza non solo personale ma anche professionale quindi sì sono contentissima che gli uomini si mettano in prima linea ma è altrettanto vero che ci sono molte donne che invece si devono anche abituare a un certo tipo di libertà e la possibilità di prendersi anche del tempo e ridistribuire il tempo e quant'altro perché io conosco tantissime donne e questo soprattutto fuori dal circuito urbano quindi un po' più in periferia questo lo si nota molto di più si credono molto libero dicono tantissimo però poi dopo o vanno alla ricerca dell'uomo che li mantiene quindi c'è qualche cortocircuito in tutto ciò oppure dicono no preferisco fare io perché lui non è capace e quindi si prendono tutto un carico di lavoro perché non è capace ma è anche chiaro che se l'uomo non impara a farle non sarà mai capace questo vale per entrambi questo vale anche per le donne che se non hanno la possibilità di fare certi lavori non saranno mai capaci di farli quindi esperienza quindi diciamo che vabbè magari non ha che fare prettamente con il vostro e-pad ma è sicuramente una cosa su cui secondo me bisognerebbe lavorare molto punti di riflessione direi con la mano alzata non so se c'è qualcuno che vuole intervenire io non so Paolo se tu vuoi rispondere io ho un paio di commenti agli spunti super interessanti che abbiamo ricevuto li farei però Marci vai vai Marco prima con le cose specifiche no no specifiche o non specifiche qua stavo riflettendo intanto volevo ringraziare perché abbiamo sentito tutti i commenti veramente molto interessanti ed è magnifico ho preso un po' di appunti su alcune cose e chi vi parla è anche il figlio di una madre sessantottina mia mamma era una sessantottina e poi nel 69 si è sposata con un ufficiale di marina per cui ha smesso i panni dell'architetto ha smesso di lavorare si è chiusa in casa e io poi assistetti alla conversazione quando ero più grande quindi sfidavo questa sorta di chiara dicotomia mio padre che lavorava e appunto metteva anche lui l'acqua a prescindere da qualunque contenuto il frigorifero o qualunque cosa però l'unica cosa che faceva era mettere l'acqua e mi ricordo io ho sempre pensato a mio padre non fraintendetemi non ci sono più entrambi i miei genitori però mio padre ha una stima enorme però lui disse esattamente questa frase durante appunto una scena in cui io sfidavo questo costrutto è chiaro che se la mamma non avesse decido di lasciare il lavoro per stare a presso i figli io non l'avrei mai sposata io dico ma questa è offensiva io poi venivo da scienze politiche quindi vi ricordate gli anni c'è proprio cose che per me urlavano vendetta vabbè comunque insomma da questo background l'ho voluto solo dire per dirvi che capisco la maggior parte delle cose di cui stiamo parlando tanti spunti interessanti il discorso della profilazione è assolutamente fondamentale noi sappiamo che stiamo mettendo le mani passatevi il termine un paniere di diverse soluzioni di coppie che oggi a tempi moderni dovremmo essere in grado in qualche modo di accomodare ecco perché abbiamo volutamente scelto di utilizzare la parola partner che è gender fluid e gender neutra praticamente per cui assolutamente siamo aperti a mille cose io stesso ho testimonianze dirette e indirette di situazioni peraltro dove diventa quasi l'opposto cioè l'uomo e questo mi riferisco forse in parte a ciò che Retra stava dicendo alla fine del suo intervento ci sono situazioni in cui poi la donna magari appunto dice vuole la predatterò non vuole però si trova l'uomo che la mantiene l'uomo che fa troppo per la cera ci sono tutta una serie tutta un insieme di situazioni che noi dovremmo poter marcare la bellezza di utilizzare dei dati ossia di utilizzare delle rilevazioni che vorremmo fare è la nostra idea è anche di lasciare un po' parlare i dati ovvero sia voler andare a vedere una volta raccolti i dati come cambiano i bilanciamenti all'interno di questo indice e di conseguenza bilanciamenti all'interno delle varie famiglie laddove ci siano coppie di diverso tipo di profilo incluso profilo finanziario incluso gli esempi che dava Laura in cui c'è una diciamo una una in inglese si dice skewners cioè la distribuzione è tutta spostata verso una parte nella parte in cui è per esempio la donna che fa il 100% del lavoro finanziariamente riconosciuto e l'uomo invece sta per esempio a casa quindi sono tutta una serie di cose che noi vogliamo assolutamente includere da un punto di vista per esempio di cura delle persone anziane eccetera sono tutti elementi che noi abbiamo intenzione di includere è chiaro che la nostra idea di base però ripeto questi dibatti di queste conversazioni servono proprio a formarla meglio e ci sono anche i single assolutamente 100% no no non vogliono essere in alcun modo ovviamente esclusi no la nostra idea di base è lasciare che le componenti che vengono poi incluse di conseguenza misurate nell'iPad siano dettate dal contesto dove noi stiamo lavorando cioè devono essere le persone stesse a dirci quali sono le cose e gli elementi importanti da includere da qualche parte si è menzionato l'utilizzo appunto alla fine di psicofarmaci ovvero sia la conseguenza di lungo periodo della scelta fatta io porto l'esempio di mia madre mia madre in gioventù quando nel 69 sposò mio padre sicuramente era la persona più felice sulla faccia della terra negli ultimi anni di vita mia madre era in chiara depressione come anche conseguenza di una scelta che ha fatto e che non aveva poi effettivamente esattamente tutto ciò va incluso in qualche modo come io adesso non lo so neanche minimamente però penso che appunto puoi menzionarlo in questo tipo di dibattiti ci dà la possibilità di riportarlo all'interno di questo discorso e di questo percorso che stiamo facendo e quindi va identificata perché non è facile qua perché c'è una scelta fatta nel 69 e una depressione è arrivata nel 2001 per esempio diavolo su 32 anni di distanza insomma quindi però è un elemento fondamentale da includere mi silenzio qua se no come al solito parlo troppo io ho giusto un paio di cosette una cosa che è scappata via nell'economia della rappresentazione perché il testo è molto più dettagliato il fatto che noi siamo più interessati a seguire il trend nel tempo piuttosto che a un indice che ci permetta delle comparabilità tra gruppi quindi il fatto che supponiamo che un giorno fra qualche anno un indicatore IPAD o figlio o nipote di IPAD venga usato in maniera abbastanza generale che ne so da sindacati o da partite noi di partenza non siamo interessati a questo tipo di comparazione dire nel 2027 il mio partito ha un indice IPAD di 0,50 mentre voi siete solo a 0,75 no noi ci interessa il trend perché vogliamo usarlo come strumento di advocacy ed è lì che tutta la natura co-costruttiva prende il suo significato cioè noi ci fermiamo a identificare il mobile diciamo l'armadio con i cassettoni e all'interno di questi cassettoni ci sono degli spazi di cassetti più piccoli ma cosa ci sia di specifico cioè le attività considerate importanti da quella coppia da quel gruppo da quell'associazione Marco l'ha detto ma è utile ripetelo vanno costruite con la controparte perché perché una volta che diciamo sono loro a metterci contenuti i calzetti le mutande i reggiseni dentro i cassetti poi questi cassetti verranno nel tempo riverificati sei mesi un anno due anni dopo e quindi noi vogliamo che si sviluppi un senso di ownership di proprietà dell'indicatore da parte dell'istituzione con cui andiamo a testarlo perché a fin di conti la maggior parte degli indici cioè che sia l'indice del costo della vita l'indice di inflazione sono tutti estrattivi e poi c'è un qualcuno c'è un'entità l'università dell'istat e compagnia che li usa noi vogliamo fare un percorso che va nel senso opposto cioè lo co-construiamo perché poi voi entità di controparte lo portate avanti pensando quali possano essere le misure più adatte per incentivare da parte del partner che fa meno a prendersi un po' di più cura di questo e noi diventiamo dei facilitatori di questi processi non saremmo noi il gruppo IPA degli esperti che diranno dovete fare così e così è importante questo perché è una novità nel mondo degli indicatori direi che mi pare quasi implicito dalle domande o dai commenti da voi fatti finora che c'è interesse rispetto a questo tema per cui se una o uno di voi ce lo ripetesse che la cosa ciao Pietro che la cosa è interessante che vale la pena ecco ricordatevi che anche noi saremmo contenti di sentire sì vale la pena riaprire questo discorso e ci daremo da fare per aiutare a far conoscere questa riflessione e mi fermo qua a voi la parola grazie Simone vuole intervenire vi ringrazio pubblicamente che avevo mandato solo un cuoricino ci interessa sicuramente lo portiate avanti lo scopo è proprio che facciate uno strumento per poter far cambiare le cose cioè per misurare come si può cambiare avere un riscontro misurabile di ogni gruppo a questo punto se non ho capito male si deve poi usare questa una volta che è stato testato all'interno di determinati gruppi aziende associazioni fasce di persone se non ho capito male sicuramente dunque noi partiamo con un pubblico in mente cioè noi l'idea l'IPAD non andiamo a proporlo alla burina che fa la prima ministra e nemmeno al fascio leghista nel senso che di partenza bisogna che ci sia già almeno una retorica pubblica a favore dell'uguaglianza di genere quindi lì sappiamo qual è il mondo dopodiché ripeto retorica perché se scendiamo nella sfera domestica non ce n'è uno che si salvi per il momento c'è una discussione aperta con un partito di sinistra ma finché la cosa non si non si concretizza non ne parliamo invece sì possiamo dire che stiamo aprendo una discussione diciamo il mondo universitario italiano magari Bruno lo saprà meglio di me ma insomma sono organizzate reti di tutte le università italiane tematiche e uno di questi gruppi tematici si occupa di giustizia e inclusione sociale avendo al suo interno anche il tema di genere e il co-coordinatore di questo gruppo col compito specifico di pensare a indicatori guarda caso è il professore io padre che è stato il direttore del dottorato di Marco per cui Marco ci porta in dote anche questo contatto una prima discussione è già stata fatta ed è quindi in fieri per andare avanti per eventualmente portare questa nostra riflessione ipad all'interno del mondo accademico che permetterà quindi di dettagliare ancora di più correggerlo migliorare eccetera eccetera però mentre quella strada lì pian piano comincia a trovare un suo senso la questione dell'appoggio politico cioè siete voi che conoscete il mondo femminista italiano quindi potete aiutarci a far conoscere che esiste questo gruppo di riflessione noi abbiamo già in mente a marzo una prossima presentazione dell'IPAD che faremo a Firenze all'Istituto Europeo però se qualcun altro di voi avesse contatti per poterne fare anche con associazioni locali in Piemonte piuttosto che in Sicilia o chissà dove non solo diciamo che siamo aperti ma siamo necessariamente interessati perché da questo tipo di riflessioni di discussioni che possono nascere diciamo farlo conoscere uno e avere suggerimenti anche su come muoversi politicamente grazie altri interventi se posso io non ho un'associazione che possa aiutare in questo ma ho un'amica che si occupa in realtà di integrare immigrati in un quartiere qua a Padova e non solo in realtà ha a che fare anche con italiani oltretutto questa è anche una cosa interessante da raggiungere perché il melting pot che stiamo creando e gli immigrati ovviamente portano anche tantissimi altri valori familiari e domestici in casa e che comunque si suonano in qualche modo anche sulle teste della popolazione l'unica cosa che posso fare è eventualmente mettervi in contatto posso provare a sentire se può essere interessata e di conseguenza oltretutto si chiama Domna l'associazione quindi si occupa anche molto di donne soprattutto di donne quindi può essere interessante magari anche esplorare queste tematiche anche oltre all'italiano o culturalmente italiano Grazie Ma io penso Paola che bisognerà che ragioniamo un po' su come presentare questa questa esperienza già mettendola poi in atto in una situazione perché se no adesso noi abbiamo fatto una cosa in cui voi avete presentato e chiedete anche un contributo diciamo sul metodo eccetera anche se il metodo non è perfezionato perché poi si perfeziona con provando ad esempio tutte le cose che secondo me ha detto Gabriella sono importantissime perché lei poneva tutta una serie di problemi pratici a cominciare per esempio anche da considerare che non ci sono solo i figli ci sono gli anziani che gli anziani spesso sono fuori dalla famiglia quindi non è un lavoro domestico in casa è però un lavoro di cura perché io chiamerei anche molto questo lavoro diciamo come cura perché oltre che la fatica fisica c'è moltissimo investimento emotivo la stessa Gabriella che diceva io devo prendere dei calmanti perché effettivamente se tu ti devi occupare di situazioni difficili per esempio metti la Simonetta che parlava della sua mamma da badare per cui fa la cara reggere e così via devi poi reggere emotivamente è chiaro che la differenza normale per educazione tra l'uomo e la donna è che l'uomo non si fa coinvolgere emotivamente cioè magari fa anche scopa per terra se glielo si chiede ma non è che si coinvolge emotivamente nello star male di un familiare di un bambino nella cosa per esempio se c'è un'operazione devi curare devi andare in ospedale devi badare prima cioè un uomo non si coinvolge emotivamente per cui per esempio questo non lo puoi mettere come un indicatore come fai a mettere il convergimento emotivo negli indicatori e questo diceva ingegnizzare però ti dà dei limiti perché il lavoro di cura in realtà è un lavoro di amore anche no? è un lavoro di coinvolgimento di motività di identificazione di empatia e così via e allora per questo io dico bisognerebbe trovare o un'associazione o il luogo non so Vicenza o Trento o Torino o Roma o non lo so insomma quelle che siamo più luce addirittura con il suo costituto sta sia a Genova che a Reggio che a Roma per dire quindi ha fatto esperienze lì ha contatti ancora dappertutto bisognerebbe trovare una comunità un quartiere che ne so dove si può in qualche modo provare perché è chiaro che non è che si può andare da un partito perché non abbiamo interesse a fare la misura del partito che ha più uomini capaci di coinvolgersi nei lavori di cura però invece in qualche luogo dove allora coinvolgi la scuola l'asilo gli insegnanti la vicina di casa la fruttivendola che ne so un posto molto concreto dove provare a fare un'inchiesta un'inchiesta un'inchiestazione si chiama di solito perché tu fai l'inchiesta ma allo stesso tempo cambi anche la realtà fai un'azione che cambia la realtà non vedo come se no sperimentare o andare avanti a perfezionare ingegneristicamente gli indici se non si prova ecco questo volevo dire Laura due cose uno ho un'amica psicologa colombiana che sta esattamente riflettendo su questa questione dell'intangibile lei sostiene che nel loro lavoro il gruppo di psicologhe colombiane con cui lavora è una riflessione che hanno già iniziato per cui mi ha promesso che mi farà avere qualcosa in termini di come loro stanno misurando diciamo questo disagio che effettivamente è vero chiaro ma è molto difficile da tradurre in pratica per quanto riguarda il metterlo in pratica ricordo che nell'ultimo slide alla fine vi parlavo dei tre cantieri che stiamo seguendo questo di Vicenza della Fattoria Sociale quello dell'Argentina e quello più probabilmente diciamo un altro molto concreto che è quello del Paraguay perché nel caso del Paraguay il rappresentante residente delle Nazioni Unite è un mio vecchio amico parlato con lui mi ha confermato l'interesse e che qualche soldo lui potrà metterlo a disposizione e stiamo preparando la proposta concreta di lavoro con questa organizzazione contadina per cui è ragionevole pensare che in questa primavera quello lì sarà fatto quello di Vicenza io andrò diciamo nelle prossime settimane a incontrarmi con diciamo il direttivo della Fattoria Sociale per cercare appunto di quagliare anche questa però se ne trovassimo anche degli altri saremmo evidentemente ben contenti perché diciamo perché probabilmente molti dei dettagli tecnici potranno essere affinati solo attraverso un passaggio nella pratica insomma vedo che è arrivata anche Pinuccia è arrivata sì scusate ma purtroppo abbiamo avuto un piccolo incidente sulla strada qui verso casa mia e quindi ho dovuto risolvere una serie di problemi concreti niente di grave ma tempo che si è perso insomma altri direi Marco se non hai nient'altro io da parte mia ho chiuso Marco sì sì solo una cosa piccolissima una riflessione che stavo facendo su quanto detto prima da Laura noi abbiamo diverse esperienze su data collection quindi collezioni di dati o inchieste anche di vario genere sulla percezione noi abbiamo lavorato molto sulla percezione di resilienza e quindi su quanto le famiglie noi lavoriamo principalmente sui paesi in crisi protratta quindi misuriamo la resilienza per capire quanto quantitativamente sono in grado di resistere però abbiamo lavorato parecchio vabbè c'è Vittoria che vuole evidentemente salutare abbiamo lavorato guarda ti hanno risalutato tutti quanti abbiamo lavorato parecchio su su quello che le persone percepiscono come la loro propria capacità di resistere agli shock ok e abbiamo trovato dei risultati molto interessanti perché comunque molte volte andavano anche in completa contrapposizione rispetto alle misure quantitative per cui come in qualche modo si può anche pensare di provare a introdurre delle misure appunto più soggettive psicologiche di queste questo è Pietro che ricorda che i tortellini sono pronti ecco e siamo oggi siamo tutti puoi salutare ciao scusate va bene quindi niente questo volevo dire scusate scusate problemi di tortellini bolognese sì possiamo anche ricordare che abbiamo anche quest'altro cantiere che stiamo portando avanti sul tema della credibilità abbiamo pubblicato poco più di un mese fa un articolo su una rivista di economia per gli economisti africani sul trust and credibility un altro indice che stiamo lavorando diciamo per noi il mago mister indici indicatori l'avete davanti con i suoi due figli per cui non osate anche diciamo nei prossimi giorni o settimane di porci domande perché chiaramente una presentazione di mezz'ora era sintetica per molti aspetti quindi sicuramente possono esserci scappati dei dettagli ma insomma restiamo a disposizione e continueremo già a marzo con quest'altra presentazione a Firenze e vi terremo ovviamente informati di come vadano avanti i cantieri attualmente in fase di elaborazione per un test se vi capita di avere contatti interessanti da provare a esplorare io dico solo a Laura senza citare di chi si tratta però che grazie a un'amica tua e adesso anche mia il contatto con un responsabile regionale di un partito di sinistra c'è che ha manifestato interesse per questa presentazione e vuole averla perché potrebbe essere possibile di farne un testo in Sardegna un posto bellissimo dove provare a sperimentare con l'estate che avanza la vita d'accordo allora ci salutiamo salutiamo tutti bene adesso la risentiremo poi appunto sul sito di Ecoistituto su Facebook e su YouTube quindi vedo che hanno anche grande successo perché sono andata a vedere quanti le stanno guardando oltre alle diffusioni che faremo nelle scuole eccetera ma vedo che c'è un certo riscontro ecco non so se Christopher me lo conferma ma io ho visto appunto alcune che hanno avuto un bel successo di ascolti ecco anche successivi confermi perfetto ottimo e quindi anche io me lo andrò a sentire lì e vi porrò eventuali domande grazie mille grazie buona serata buona serata anche a voi alla prossima